Il mio nemico che fanno finta di non conoscere se è solo zio o nipote, lo zio ha sistemato il nipote e tutti stanno zitti. Se tutti voi non mi aveste tradito, adesso io non sarei libero e felice. Sono stato io. No, è stato un altro. Siamo stati tutti. Siamo tutti colleghi, non amici. Capito? Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS